Torna dal 3 al 5 maggio, Rovigo racconta il festival organizzato dall'Associazione Liquirizia e fondato da Sara Bacchiega e Mattia Signorini. Titolo della sesta edizione è Siate coraggiosi, un invito a costruire nuove visioni, a valutare attraverso più angolazioni le difficoltà che la vita ci pone davanti, a prendere le battute d'arresto e trasformarle in occasione di riscatto, a riconoscere le differenze come elementi fondativi della nostra identità. Tre giornate in cui oltre 100 ospiti per più di 70 eventi dialogano con la comunità attraverso incontri, letture, spettacoli e momenti di approfondimento, indagando le dinamiche, le controversie, le energie e le prospettive del contemporaneo, con un linguaggio sempre accessibile al pubblico intergenerazionale, che è la vera anima del festival. Previsto anche un ricco weekend di eventi con una programmazione speciale dedicata ai più piccoli. I principali ospiti saranno Stefano Bartezzaghi Annalena Benini Stefano Benni Giacomo Bevilacqua Filippo Caccamo Gianrico Carofiglio Daniele Cassioli Guido Catalano Filippo Ceccarelli Massimo Coppola Francesca Corrado Cristina Dell'Acqua Angelo Duro Danilo Deninotti Giorgio Fontana Giorgian Foresi Frenchi High Energy Ilaria Gaspari Evita Greco Khaled Califa Mathieu Mantanus Maria Antonietta Giancarlo Marinelli Michela Marzano Luca Mercadante Marco Missiroli Davide Musca Nada Giacomo Papi Paola Peretti Francesca Pieri Francesco Piccolo Massimo Polidoro Gabriele Romagnoli Paolo Rumis Alberto Schiavone Roberta Scorranese Michele Serra Paolo Soffientini Filippo Solibelli Simone Tempia De Postolis Family Luca Trapanese Davide Van de Froos Vanna Vinci Nina Zilli occup of terus lu ja PI Grazie a tutti